margot robbie è incinta l'attrice aspetta il primo figlio dal marito tom a curly i dettagli a seguire nell'articolo margot robbie è incinta l'attrice che ha interpretato barbie nell'omonimo film aspetta il suo primo bambino dal marito tom a curly oggi margot ha 34 anni ed è incinta del marito sposato nel 2016 dopo due anni di fidanzamento la notizia è emersa grazie al magazine people che ha confermato le news arrivate da social e foto dei paparazzi margot robbie e suo tom sono stati visti insieme durante una vacanza sul lago di como e dalla gonna nera di lei esce un pancino rotondo la coppia al momento non ha commentato la notizia cercando di mantenere la massima riservatezza sui pettegolezzi che circolano sul loro conto margot robbie è incinta margot robbie è incinta e le foto sul lago di como lo confermano così come people che ha avuto l'ultima parola di seguito gli scatti dei paparazzi la storia d'amore con il marito tom a curly margot robbie e il marito tom a curly si sono conosciuti nel 2014 sul set di sweet francis lui era assistente alla regia e lei invece un'attrice del cast dopo due anni di relazione hanno deciso di sposarsi celebrando le nozze con una cerimonia intima a byron bay in australia a quanto pare per margot è stato un colpo di fulmine ma era convinta di non essere ricambiata le sue parole a vog sono sempre stata innamorata di lui ma pensavo non mi amerà mai mi sono detta non essere stupida e digli che ti piace e poi è successo oggi dopo dieci anni dall'inizio della storia d'amore arriva la notizia del primo figlio